All'ordine dei medici di Caserta questo pomeriggio c'è un incontro sulle suture chirurgiche, un corso che è rivolto in modo particolare a chi dottore? Il corso soprattutto ai giovani medici perché molte volte, ahimè, escono dal percorso di inesitario non ancora pronti a fare, essendo laureati in medicina e chirurgia, non ancora pronti a mettere dei punti. Ovviamente che poi è la base della chirurgia, spiegando loro in che modo, quali sono gli strumenti adatti che dovrebbero di base avere in tutti gli ambulatori e come poi possono essere usati, anche perché poi esistono varietà di punti molto variegati che servono per tantissime attività chirurgiche. Quindi l'intento è quello là di far capire ai giovani medici il modo in cui trattare le piccole ferite e poi magari chi di loro si avvierà alla chirurgia vera e propria di affinarsi ancora di più per affrontare gli interventi chirurgici. Questo corso è l'ultimo, l'abbiamo fatto nel 2019, pre-covid, anzi appena si affacciava il covid nel mondo. Quindi già sono quattro anni che aspettiamo di rifarlo. Siamo molto contenti di rifare questo corso perché quest'anno soprattutto, con il dottore Spina che sta interessandosi tantissimo dei giovani medici, riusciamo oltre a fare il corso di sutura a dare indicazioni per come si apre un ambulatorio, per come si deve esplicare un certificato. Quindi siamo contenti perché ci rivolgiamo soprattutto a questi giovani medici e poi anche perché ripassiamo anche noi più adulti le cose da fare. E' già predisposti dei kit, ci spiega un po'? Sì, praticamente noi prima di iniziare la parte pratica dobbiamo dare indicazioni su come si usano i strumenti, i ferri e poi quali sono i fili di sutura. E poi la parte pratica si attua grazie alla Eticon, che è una delle più grosse case produttive di fili di sutura, con delle basi di silicone che simulano molto bene la cute, con incisioni che i giovani medici faranno, e poi suturare con i vari fili che noi proponiamo le suture, con i vari modi di sutura, che ne sono tantissimi, però ho detto all'inizio bisogna fare la base per incominciare e poi magari chi deve affinarsi lo farà durante il percorso medico.